Ben ritrovati, ultimamente sentiamo spesso parlare di trombosi perché dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca e Johnson & Johnson questi stessi vaccini sono finiti sotto il mirino dell'Agenzia Europea dei Farmaci perché si sono verificati dopo appunto la loro somministrazione alcuni casi di trombosi. Quindi c'è curiosità, c'è attenzione rispetto a questa patologia ed è giusto che sia così perché a prescindere adesso da questo momento particolare in cui se ne parla in associazione ai vaccini anti-covid si tratta di malattie molto molto serie. Proprio per questo oggi a MedicaTV vogliamo tracciare l'identikit della trombosi e delle malattie che può provocare, una malattia che colpisce in Italia ogni anno 600.000 persone provocando morti o disabilità in oltre 400.000 persone e che è la causa più frequente di alcune delle più brutte serie patologie cardio e cerebrovascolari, dall'infarto del miocardio, dell'ictus cerebrale, della trombosi venosa e anche della tromboembolia polmonare. Ne parliamo oggi con la dottoressa Lidia Rota-Wender, specialista in ematologie e malattie cardiovascolari da trombosi e presidente di ALT, associazione per la lotta alla trombosi e alle malattie cardiovascolari ONLUS. Benvenuta dottoressa. Buongiorno, grazie. Allora partiamo subito con una prima domanda che ci chiarisce le idee. Che cos'è una trombosi e quanto può essere pericolosa? La trombosi è la conseguenza della formazione di un coagulo di sangue in un punto e in un momento in cui non si sarebbe dovuto formare o non si sarebbe dovuto formare di quella dimensione. Un coagulo è sempre una cosa buona. Si forma per fermare un'emoragia, per guarire una ferita, per guarire l'infiammazione e per guidare la guarigione e costruire la cicatrice. Qualche volta si forma anche dentro i nostri vasi, nelle arterie, nelle vene o nei capillari, sempre per una buona intenzione perché anche dentro le vene, i capillari e le arterie c'è bisogno ogni tanto di guarire, di spegnere qualche incendio. Quando si forma in modo eccessivamente esuberante oppure dura troppo a lungo nel tempo, può rallentare il fluire del sangue nel vaso e quindi provocare degli accidenti. Che è meglio che non accadano, sicuramente. Meglio di no. Chi sono i soggetti più a rischio di trombosi? Le persone che hanno già avuto un evento, quindi che sono già andate incontro nel passato, un evento da trombosi che sia arteriosa o venosa, le persone che appartengono a una famiglia nella quale ci sono più familiari con sanguinei che possono aver avuto un evento da trombosi, di nuovo arteriosa o venosa, le persone che hanno più fattori di rischio contemporaneamente presenti. Quindi sono loro che devono prestare più più attenzione rispetto agli altri. Ma ci sono. Sì, ognuno di noi dovrebbe essere capace di fare quello che io chiamo il passaggio davanti allo specchio, proprio e della famiglia, per cercare di capire come siamo fatti, se siamo sovrappeso, se non lo siamo, qual è la nostra storia e qual è la storia della nostra famiglia, perché siamo il frutto della genetica dei nostri genitori, ma possiamo intraprendere una strada diversa da quella che hanno intropreso i nostri genitori se conosciamo bene quali sono i briganti che possiamo trovare per strada. Ecco, a proposito di quello che possiamo fare, ci dice quali sono i fattori di rischio modificabili, quelli su cui appunto noi possiamo poi tentare di agire per fare prevenzione? Noi possiamo partire con un assetto genetico predisponente perché apparteniamo una famiglia dove ci sono già stati dei casi oppure noi stessi abbiamo già avuto un evento e quello non lo possiamo modificare. Possiamo avere in alcune fasi della vita dei fattori di rischio che si sovrappongono al nostro modo di essere abituale, che possono essere situazioni, per esempio la gravidanza, che è in assoluto la situazione più trombogena nella vita della donna, è una situazione trombogena e anche pro-infiammatoria e noi sappiamo che le donne in gravidanza tutte moltiplicano il proprio rischio di avere una trombosi rispetto a una se stessa, quando non era incinta. Questo rischio aumenta progressivamente in gravidanza fino a diventare molto significativo dopo il parto, nei 40 giorni dopo il parto, quindi tutte le donne che affrontano una gravidanza dovrebbero essere conscie di questo rischio, questo non è modificabile. L'altro rischio che invece può non essere modificabile è la propria struttura fisica, possiamo avere delle vene particolarmente fragili nelle gambe, soprattutto che sono il punto più lontano dal cuore, quindi vene che hanno perso elasticità e una volta persa non la recupera, sono quelle che noi chiamiamo le varici, possiamo avere una deposizione di grasso addominale molto significativa che siccome equivale, quello che vediamo allo specchio equivale al grasso che abbiamo intorno ai visceri, può rallentare il ritorno del sangue verso il cuore nelle vene e quando le vene hanno un rallentamento di circolo nel loro riportare sangue sporco al cuore perché lo mandi a pulirsi nei polmoni, può darsi che questo rallentamento attivi la coagulazione del sangue. Tutte le situazioni nelle quali noi abbiamo un rallentamento della circolazione del sangue o il sangue viene a contatto con l'aria o il sangue viene a contatto con le sostanze liberate da una ferita, noi abbiamo un aumento del rischio di trombosi. Possiamo avere delle situazioni nelle quali soffriamo di malattie infiammatorie acute o croniche, la febbre, possiamo avere una polmonite, possiamo essere allettate, possiamo avere una frattura, ma tutte queste sono situazioni intercorrenti che possono determinare momentaneamente un aumento del rischio o temporalmente un aumento del rischio. I fattori di rischio che possono essere modificati sono quelli legati alle nostre abitudini, quelle che sono veramente modificabili, quindi sono l'alimentazione, quelli che ormai conosciamo talmente bene che ne abbiamo quasi a noia quando ne parliamo, invece rimangono fondamentali. Li conosciamo però poi non li iniziamo in pratica. Sì, una volta una persona alla quale avevo chiesto di darmi una mano per fare comunicazione sulla trombosi mi ha risposto ma io trovo che questi fattori di rischio sono talmente diffusi, tutti li conoscono, non vedo perché devo dare una mano a conoscere a coloro che non hanno ancora voluto imparare. Questo non va bene, non va bene. Noi i fattori di rischio sono diversi per le trombose delle arterie e per le trombose delle vene. Le trombose delle arterie contano molto elevati livelli di colesterolo, troppo a lungo, troppo alti nel tempo. Conta l'ipertensione, conta il diabete. Sono tutte situazioni che possono essere modificate però opportunamente con lo stile di vita oppure con i farmaci quando necessario. Una situazione molto delicata è la situazione in cui una persona soffre di fibrillazione atriale che è un'aritmia del cuore molto frequente, molto diffusa, spesso non sentita dal paziente e quella è un'aritmia che può provocare un'attivazione inappropriata del sistema della coagulazione nel cuore e quindi formare dei microtrombi nel cuore che poi possono diffondersi, liberare degli emboli che vanno al cervello e provocare l'ictus. Quindi i fattori di rischio sono coerenti, sono diversi rispetto al rischio di trombosi arteriosa o venosa. Ecco, a proposito di questa differenza, quali sono i campanelli d'allarme e segnale a cui dobbiamo cercare di prestare attenzione nel caso di una trombosi venosa o di una trombosi arteriosa? La trombosi arteriosa è sempre più grave perché la trombosi arteriosa vuol dire che mi si chiude un vaso importante che stava portando sangue di buona qualità, ricco di ossigeno e di nutrimento a cellule che non aspettavano altro che di riceverlo. Quindi se mi si chiude un'arteria cerebrale io avrò un'ischemia cerebrale che noi chiamiamo ictus e avrò tutti i sintomi legati all'ictus qualche volta preceduti da campanelli d'allarme che noi chiamiamo TIA, che sono attacchi ischemici transitori, cioè sintomi che arrivano stanno due, tre, quattro, cinque minuti e poi spariscono da soli e che non dobbiamo sottovalutare. Quando invece la trombosi si forma nelle arterie coronarie che sono le arterie che nutrono nel cuore, allora abbiamo i sintomi che sono dell'infarto oppure quelli che vengono prima dell'infarto, cioè l'angina, quindi il dolore al petto, il dolore al petto che si radia al braccio ma non sempre, alla mandibola, alla scapola, alla spalla, la mancanza di respiro per esempio. Se abbiamo una trombosi delle vene una gamba si gonfia più di un'altra, appare un cordone rosso dolente lungo il decorso di una vena. Se si libera qualche piccolo frammento, piccolo o grande, da questa trombosi che si è verificata in una vena lontana dal cuore, può viaggiare nella circolazione del sangue, siccome nelle vene il sangue va da periferia verso cuore, arriverà al cuore percorrendo vasi sempre più grandi e quando gli emboli arrivano al cuore li butta nel polmone e il polmone avrà un'embolia polmonare. Quindi i sintomi sono diversi in funzione dell'organo colpito. Un trombo che si forma in un'arteria della retina provocherà cecità perché la retina è un organo molto sensibile, lo consideriamo parte del cervello. Quindi i trombi danno sintomi sempre diversi in funzione dell'organo che colpiscono e se sono arteriosi o venosi. I più pericolosi sono gli arteriosi perché mandano in asfissia le cellule che poi muoiono. I trombi venosi sono altrettanto pericolosi perché possono liberare emboli e dare emboli a polmonare, però possono essere tutti quanti riconosciuti per tempo e curati. Quindi massima attenzione e quindi ripariamo l'importanza invece di fare comunicazione perché assolutamente la gente si sa ma forse ancora non è entrato bene in testa e comunque non nei nostri comportamenti abituali. Adesso tocco con lei un tema molto caldo che sono sicura che le chiederanno in diversi Andiamo a chiamarlo bollente. Parliamo dell'associazione che è stata trovata tra casi di trombosi e il vaccino AstraZeneca e anche Johnson & Johnson. Sono pochi casi però sono stati, è chiaro, sembra ormai evidente che c'è un collegamento, anche alcuni studi che sono apparsi sul New England Journal of Medicine lo dimostrerebbero e questo diciamo sta creando tanta confusione, fa venire dei dubbi anche sui vaccini a vettore virale e questo penso che sia legittimo da parte delle persone avere un po' di confusione in testa. Lei che cosa ne pensa e che cosa direbbe a un cittadino che magari rinuncia a vaccinarsi perché teme una trombosi? Allora parto subito da quest'ultima perché trovo che sia fondamentale. Secondo me riuscire ad avere il vaccino è assolutamente un privilegio e l'unica arma che possiamo avere non solo per proteggere noi stessi dal rischio di essere infettati e quindi di ammalare di Covid che è una malattia molto grave, l'abbiamo visto, non c'è bisogno di sottolinearlo e nella quale si verificano certamente molti più casi di trombosi e di emboli rispetto a quello che si verifica con il vaccino. Quindi non rinunciamo al vaccino per la paura che ci succeda qualcosa perché la paura che ci succeda qualcosa se veniamo infettati è molto più grande. La seconda ragione per cui non dobbiamo rinunciare è che questo virus non vuole ucciderci, questo virus vuole usarci e quindi vuole nutrirsi di noi e quando entra dentro di noi vuole moltiplicarsi a nostre spese usando tutto il nostro apparato cellulare e allora noi l'unica cosa che possiamo fare è impedire di entrare dentro di noi e soprattutto impedire che a forza di moltiplicarsi genere Hulk, quel mostro verde che si conosceva dai cartoni animati, poi cambia anche la giacchetta e quindi invece della giacchetta blu si mette la giacchetta rosso oppure quella verde per non rendersi riconoscibile al vaccino. Quindi l'urgenza di vaccinarci è straordinariamente fondamentale ed è un privilegio la vaccinazione che dobbiamo usare. Certo ogni singolo caso che è stato riferito è un caso importante perché noi possiamo dire solo sette persone su sette milioni, otto milioni, quindi una persona per milione ha avuto un qualche cosa che può essere messo in relazione col vaccino, però ogni caso è dolorosissimo quindi non è che li dobbiamo sottovalutare, con questo non dobbiamo pensare che certo quella persona se sono io, io voglio sapere per me, quindi ognuno di noi va in cerca di una medicina personalizzata e di un'attenzione personalizzata, però è vero che quando si va con la medicina su milioni di persone è possibile che ci possano essere delle coincidenze, perché se noi teniamo presente che i casi di trombosi sia arteriosa che venosa in Italia sono 600.000 ogni anno, vuol dire che stiamo parlando di un problema che genera malattie che sono un grande problema e quindi dobbiamo sapere che chiunque di noi potrebbe, se ha una serie di fattori di rischio, essere colpito da un infarto di un'ischemia cerebrale o da una trombosi venosa cerebrale, che non è rara, molto rara, però non è così rara che noi non la conosciamo, noi la conosciamo, quindi io penso che la cosa importante sia, siamo noi una parte di questa squadra che deve cercare di prevenire gli effetti collaterali correlati o causati, non lo sappiamo ancora per la verità, stiamo facendo delle ipotesi ed è importante che la medicina vada avanti serena a cercare di capire le cause e qualche volta, come è successo qui, una situazione di stop per un attimo, aspetta che così capisco meglio, secondo me è molto condivisibile, è giusto che sia così, questa situazione ci ha preso tutti di sorpresa e quindi è una situazione così particolare, quella della malattia e ovviamente non poteva mancare che anche col vaccino ci fossero delle situazioni particolari, quando si dice quando nascono i problemi non arrivano mai da soli, però secondo me in termini di rischio beneficio fare il vaccino è assolutamente fondamentale, dopodiché ci saranno persone che facendosi un'analisi di quei passaggi allo specchio che abbiamo detto prima, valutando la propria storia personale e la propria storia familiare, potrebbero rientrare in una categoria di persone particolarmente delicate e quindi potrebbero consultare il proprio medico di fiducia per capire se c'è qualcosa di più che si può fare, se può mettersi un casco in testa per non essere colpito dalla pietra che può cadere dalla montagna, ecco. Esatto, guardi dottoressa, questa era proprio l'altra domanda che le avrei fatto, cioè ci possono essere delle categorie di pazienti, diciamo, per le quali non è indicato, non sarebbe indicato questo tipo di vaccino che funziona così, diciamo con l'adenovirus e che quindi, perché, perché magari per caratteristiche genetiche, per la sua storia personale e familiare è più a rischio di trombosi e quindi perché darti un vaccino che lo esporrebbe ancora di più a questo rischio? Allora, certezze solide non ne abbiamo, nemmeno una. E così come non abbiamo una soluzione solida per prevenire questi pur rarissimi eventi. Quello che stiamo cercando di capire è quali sono i meccanismi con cui questi eventi si verificano. Tutti i vaccini provocano una reazione infiammatoria perché nel momento in cui lei inietta in un braccio una sostanza che è estranea, l'organismo reagisce. E come reagisce? Reagisce con il sistema dell'infiammazione, che è il primo che arriva, che provoca quelli sintomi che possono avvenire nei giorni successivi, l'inoculazione di un vaccino, il gonfiore, il dolore, dei sintomi diffusi che possono simulare quelli della malattia vera. Ma questo succede anche col vaccino anti-influenzale. In alcuni casi ci può essere una reazione troppo esuberante del sistema immunitario che dovrebbe andare a prendere le misure su questo pezzettino di virus che, vettore o non vettore, comunque dovrebbe andare a prendere le misure in modo da riconoscere questa serratura. È come se noi iniettassimo col vettore la serratura, un pezzettino di corona, che è quella che però è quella che poi ci permette di produrre dei soldatini che sono pronti ad ammazzare proprio quella. Quindi producono una chiave che va proprio a scardinare quel tipo di virus. Quindi se noi facciamo il vaccino abbiamo una bella squadra di anticorpi pronta e allerta. Se invece non facciamo il vaccino, il tempo che ci mettiamo nel momento in cui dobbiamo mandare il nostro sistema immunitario, riconoscere il virus e vedere dove è andato a finire e trovare il modo per ammazzarlo, questo fa sviluppare la malattia. Quindi io penso che non dobbiamo essere troppo affrettati nel dire che c'è una causa di vaccino che provoca sicuramente gli eventi, altrimenti ne avremo molti di più, ma veramente molti di più. Quindi la rarità di questi eventi fa pensare che ci possa essere un qualche tipo di reazione immunitaria di un sistema che in alcune persone può essere particolarmente esuberante e che quindi provoca un incendio che invece di essere un incendio localizzato diventa un incendio generalizzato e i fattori della coagulazione partecipano sempre a spegnere gli incendi. Sono come dei piccoli pompieri che dove c'è da spegnere incendi loro arrivano, ma arrivano aumentando di quantità. Forse è la relazione fra tipo di sistema immunitario esuberante e forse qualcosa che c'è nel vaccino convettore? Può darsi, lo scopriremo e quando l'avremo scoperto capiremo anche selezionando quali sono le fasce di popolazione che possono tranquillamente essere, come si sta già facendo peraltro, per precauzione, vaccinate con un vaccino o con l'altro senza aumentare la probabilità per quanto remota di poter avere un evento avverso. Ci terrei a dire che tutti i vaccini provocano degli effetti collaterali, anche Moderna e Pfizer provocano degli effetti collaterali, perché sempre è così. Il nostro organismo non vuole essere invaso. Anche da una scheggia di legno che ci si infila nel dito, prima o poi arriva, se non riusciamo a toglierla, arriva il pus, che sono globuli bianchi, e lo buttano fuori, perché noi non vogliamo estranei in giro. Però ecco, questo vaccino in questo momento devo dire, bisogna aspettare, non arrivare a conclusioni affrettate, ma soprattutto, secondo me, il messaggio deve essere molto rassicurante. Io ti do gli strumenti per poter eventualmente riconoscere precocemente quello che ti sta accadendo dopo che ti è stato inoculato il vaccino. Quindi, un mal di testa feroce, molto forte, che io non ho mai conosciuto, ma un mal di testa molto forte che mi stringe come una cuffia la mancanza di equilibrio, qualche disturbo della vista, ma non la perdita della vista. Questo potrebbe essere un sintomo di trombosi cerebrale, ma ricordiamoci che di trombosi cerebrali noi ne vediamo, perché si verificano come in altri distretti del corpo e si curano. Si curano se il paziente è allertato e impara a capire qual è il sintomo che non deve essere sottovalutato e quindi poi si rivolge al suo medico e cerchiamo di fare di tutto con la medicina per curarlo. Certo, bene, allora è importante ancora di più parlare di questi sintomi. Allora, veniamo a un altro tema. Il 21 aprile ricorre la decima giornata edizione della giornata nazionale per la lotta alle trombosi, che viene celebrata ovviamente, vista la situazione, in edizione tutta digitale. Prima di farle una domanda vorrei far vedere la clip che voi avete realizzato che ci mostra un po' l'iniziativa. Allora, dottoressa, l'iniziativa dà voce quest'anno alle storie dei pazienti. Ci spiega bene in che cosa consiste e come si può partecipare? Allora, noi siamo stati un po' travolti da questa incredibile notorietà della parola trombosi, che era una cosa che avremmo voluto vedere svolgersi negli anni, visto che sono 35 anni che ci lavoriamo, e purtroppo è associata a degli eventi molto drammatici anche in parti inspiegabili. Quindi questo c'è un pochino, da una parte potevamo essere soddisfatti, ma insomma la situazione è una situazione difficile. Questa edizione della giornata l'abbiamo voluta, è già la seconda che facciamo online, per la verità, perché anche l'anno scorso eravamo messi nello stesso modo, però è molto importante perché abbiamo pensato che forse i migliori educatori della popolazione sono coloro che hanno già incontrato la trombosi da vicino. Quindi persone che raccontino la propria storia, e la cosa curiosa è che la maggior parte delle persone che hanno risposto per adesso inviando la loro storia ad altchiocciolatrombosi.org, o in una clip, oppure con un racconto di venti righe, beh sono quasi tutte giovani. È abbastanza sorprendente, forse vuol dire che i giovani sono molto spaventati, perché se non ricevono informazioni adeguate, vivono con lo spavento di avere perso, primo, la sindrome da immortalità che è tipica delle persone giovani, e che invece piace ai giovani avere. E secondo, purtroppo questi giovani secondo me vivono molto nelle famiglie accanto a persone che invecchiano, che siamo noi, e quindi si stanno abituando a vedere anche la malattia e i drammi, e sono spaventati. Allora abbiamo pensato che storie di coloro che l'hanno incontrata, ma che sono sopravvissuti, stanno benissimo, sono stati curati, possono essere un ottimo volano per poter far capire a tutti che ognuno di noi ha bisogno di avere in mano degli strumenti che non sono culturali, perché culturali fa subito qualche cosa di difficile da perseguire, ma di conoscenza, perché la scienza ci dà ogni giorno dei risultati e noi ad Alt cerchiamo sempre di tradurre in parole semplici il risultato di quello che la ricerca scientifica dà, ma in parole complesse, e noi lo traduciamo. E queste persone che stanno mandando le loro storie sono veramente commoventi, perché saranno secondo me il metodo di diffusione di conoscenze e di educazione per la popolazione, perché le persone si potranno immedesimare e capire che la trombosi si può riconoscere, prevenire, curare, e quello che vorremmo è che nessuno un giorno potesse dire io non lo sapevo. Questo è l'aiuto che stiamo avendo da tutti voi anche. Sono assolutamente d'accordo con questa strategia, le storie sono sempre e da sempre quello che colpisce di più, ci si immedesima, si pensa potrebbe capitare anche a me, a mia madre, mia sorella, per cui ottima iniziativa, vi seguiremo in questo. Ricordiamo, se volesse partecipare, può mandare quindi la sua storia a? O al sito www.trombosi.org o ad altchiocciolatrombosi.org e contattando l'associazione poi potrà avere tutti i dettagli. Le storie devono essere abbastanza brevi, ma la cosa bella di queste storie è che sono storie finite bene e questo è un messaggio positivo e importante che bisogna diffondere. La trombosi se la si conosce, la si previene e la sicura in modo adeguato. Grazie anche per questo messaggio di chiusura che ci fa sperare il meglio. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie.